C'è un problema al quale il caro genio di Palau evita accuratamente di rispondere. Vediamo di riformularglielo con dati veri. La portaerei USS John C. Stenis sta viaggiando alla velocità di 50 km orari verso nord dove si trova la base navale di Norfolk, Virginia Due elicotteri SH-60 Seahawk Decidono di decollare e di atterrare all'eliporto vicino alla base, sulla terraferma. Nell'ipotesi irreale che la terra si afferma dovranno forse inclinare la cloche verso la direzione opposta rispetto a quella in cui sono partiti. Genio di Palau, rispondi a questo. Visto che sostieni che Come si dice l'elicottero nel secondo punto con il joystick quando sta atterrando dovrebbe averlo leggermente da una parte non può più atterrare col joystick perfettamente dritto ma dovrà atterrare mentre l'aereo sta andando a sinistra leggermente ma questo non succede quando un elicottero parte e atterra 20 km a nord non si ritrova il suolo che scorre da una parte deve atterrare normalmente con l'elicottero dritto e il joystick dritto cioè non atterrerà col joystick leggermente da una parte che è per recuperare ci siete? Quindi se nella realtà di tutti i giorni l'elicottero non mette il joystick da una parte per atterrare a 20 km a nord significa che l'atterrà non c'è capito nulla eeehehehehe eeehehe eee